ciao alberto oggi dove ci troviamo oggi ci troviamo a rieti con un raduno che per la prima volta viene effettuato è stato supportato dal maggiolino club italia e dagli amici della macchina del tempo un raduno molto interessante devo dire che ha permesso di conoscere una realtà nuova un territorio una cultura veramente interessanti e un'organizzazione molto bella e volenterosa che ci ha fatto stare due giorni qui veramente belli che cosa si è fatto in questi due giorni in questi due giorni si è girato per il territorio si è visitato posti suggestivi uno su tutti greccio dove c'è stato fatto il più antico presepe italiano dove diciamo c'è un bel monastero poi abbiamo visto la città di cittadugale molto interessante una visita per il territorio che è stata come dire è interessante dal punto di vista culturale